3micro è ormai da anni partner del Clusit nella stesura del rapporto annuale su quello che sono le minacce informatiche a livello italiano e anche quest'anno si è dimostrato come il rapporto sia uno strumento utile in particolar modo per gli utenti finali per capire quello che è la problematica. Problematica è come si evidenzia anche il rapporto di quest'anno sta sempre di più crescendo e quindi necessita un'attenzione maggiore anche da parte delle aziende. Dobbiamo ricordare che oggi la sicurezza informatica è uno dei primi asset fondamentali all'interno di un'azienda per proteggere quello che sono i loro dati, quello che è il loro business. Pensare a un attacco malware che semplicemente blocca una macchina è una cosa molto riduttiva, come è scritto nel rapporto e come è stato presentato nel rapporto anche 2016, oggi dietro a un qualsiasi attacco malware c'è un'industria che è in grado di monetizzare e fare soldi, quindi le aziende devono pensare alla sicurezza in questi termini e in quest'ottica, come un qualcosa che li aiuti a mantenere e li aiuti a aumentare quello che è il loro business, perché perdere oggi le informazioni su un progetto, perdere un elenco clienti e fornitori o perdere anche la stessa operatività per qualche giorno per ripristinare i dati, sono dei costi che oggi le aziende non si possono permettere.